Una ragazzina che, cioè, ecco già urlano, che è un fenomeno in America, tu devi pensare che è la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica, quindi... Davvero? Ti ho detto una cosa eclatante? Che notiziona! Allora sono quasi tutti in posizione, non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney, No, ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears! Baby, una volta più! Che notiziona! Grazie per la visione Grazie a tutti 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 E una blu la regalo alla Alessia Grazie, grazie Fiore Sei molto gentile Quindi poi i nostri amici del pubblico se la regaleranno da solo, da soli, fra di loro Ok, allora noi salutiamo Britney, è stata una esibizione meravigliosa, thank you very much Britney, see you later Ciao Britney, a big kiss from all Italy, a big kiss from all Italy, I hope to see you soon, I hope to see you soon, speriamo di vederti presto, ok? Ciao everyone Ciao Ciao Grazie a tutti Ciao